... Mercoledì, mercoledì 22 di agosto, buongiorno e benvenuti come di consueto alla rassegna stampa breve di Video 33 che apriamo naturalmente parlando del meteo. Andiamo a vedere subito un'immagine delle prime ore di questa giornata, un'immagine che con l'aiuto della regia di Daniel Sumerer ci arriva dal capoluogo, sopra Bolzano ancora nubi però dopo il temporale di questa notte dovrebbe tornare a splendere il sole così come su tutto l'Alto Adige. Vediamo quello che ci dice Meteo Bol della provincia di Bolzano, ci racconta che le temperature saranno alte, 32 gradi, la temperatura più alta in Alto Adige verrà toccata appunto nel capoluogo a Merano e a Bressanone. Sole, sole ovunque, poi nel pomeriggio in serata dovrebbero tornare le nubi con possibili isolati temporali. Andiamo a vedere quella che è la situazione nel vicino Trentino, situazione sostanzialmente identica, anche qui temperature alte, la colonolina del mercurio a Trento dovrebbe fermarsi sui 33 gradi, sole, umidità e poi nel pomeriggio anche qui dovrebbero arrivare le nubi con qualche locale temporale. Ma adesso andiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti da non perdere di questo fine di agosto. Il domani, 23, aperitivo lungo di beneficenza alla Brasserie della Forst a Bolzano. Dal 24 al 26 di agosto invece a Sluderno si potranno andare a vedere i giochi medievali dell'Alto Adige. Sempre dal 24 al 26 all'Access Finshaw Cup 2018. Torneo internazionale di hockey sul ghiaccio in preparazione di quella che sarà un appassionante, come sempre, stagione invernale. Il 26 di agosto invece, per chi ha voglia, può andare alla Malga Gomp in Valpa, Siria, dove c'è un appuntamento per l'amanti della gastronomia fuori dagli schemi tradizionali. Il 31 di agosto per finire a Merano. Sibenferker Oktoberfest. E adesso, adesso andiamo a vedere quelle che sono le aperture dei quotidiani di oggi. Partiamo con l'Alto Adige, muore a 25 anni sul Violetto, un'altra tragedia in montagna. La vittima è una poliziotta austriaca. Apertura del Corriere dell'Alto Adige invece dedicata al traffico. Cantieri, un mese di passione, via Renonda. Oggi la deviazione, Ponte Talvera da risanare. Fasi a senso unico alternato. Informazione per quanto riguarda il vicino Trentino, dedicata a quanto avvenuto in Val Sugana. L'Alto Adige dice, muore nell'auto in fiamme. La vittima è Mattia Adami, 37 anni, di Civezzano. Così come riportato dall'Alto Adige, anche il quotidiano Trentino racconta di questa tragedia. Esplode l'auto, muore carbonizzato. Tutto avvenuto nella Galleria dei Crozi. Racconto shock, abbiamo tentato di tirarlo fuori. Andiamo a vedere adesso l'informazione in lingua tedesca del quotidiano Dolomiten. La foto è dedicata appunto alla tragedia in montagna con la morte di una poliziotta. In alto si parla della SAD e della nuova concessione, la cui gara, il bando di gara non è partito. È rimasto fermo e Gatterer Renko è la compagnia, insieme a Gatterer, che gestisce la SAD, che continuerà ancora a gestirla. Per quanto riguarda invece la Taghezeitung, apertura dedicata ai giovani, ai giovani che dopo la maturità, così racconta l'altro quotidiano in lingua tedesca, che prima di iniziare i nuovi studi decidono di prendersi un anno sostanzialmente di pausa, per girare il mondo. Andiamo a vedere adesso l'informazione nazionale e internazionale con il Corriere della Sera, che apre sulla stretta del governo su autostrade i conti sotto esame, l'ipotesi di un intervento di cassa depositi. E poi la fotonotizia è dedicata ancora a quanto avvenuto, la tragedia avvenuta in Calabria, il torrente, siamo nel parco del Pollino, la strage, chi ha sbagliato? E questo un interrogativo che si pone appunto il Corriere della Sera. Andiamo a vedere adesso l'informazione economica. Con il sole 24 ore, si parla di concessioni, autostrade, acque e telecomunicazioni nel Mirino. ben 35 mila concessioni. Ma noi adesso ci fermiamo qui con questa rassegna stampa breve, naturalmente il migliore augurio di un sereno mercoledì.